Sceglie la Lega non sceglie un termologizzatore, ma ne sceglie tutti quelli necessari per trasformare Roma in una città pulita dove i rifiuti diventano ricchezza, come accade in tutto il resto del mondo. Domenica 12 e lunedì 13 febbraio fai una X sul simbolo della Lega e scegli il buon governo, perché il Lazio lo merita.